bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi oggi ho veramente un bel po di cose da farvi vedere ma soprattutto da farvi sentire e sì perché ci sono stati dei piccoli aggiornamenti nel corso delle ultime 24 ore e dei ritrovamenti che ci fanno un pochettino capire quello che potrebbe accadere entro il termine di questa season ma adesso ne vedremo delle belle parleremo anche però di una collaborazione incredibile con due artiste di fama mondiale prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento con i miei video news e allora andiamo direttamente al primo argomento di oggi ne ho già parlato ieri lo rispolveriamo in due secondi vi ricordo che tra pochissimo sarà possibile ottenere una copertura animata e reattiva totalmente gratuita fatti guidare dalla luce prendi la luce con te al termine dello spettacolo parliamo ovviamente del concerto di diplo questa inedita copertura per il dopo festa reattiva alla musica verrà fornita gratis a tutti i giocatori di fortnite che entreranno nel gioco da venerdì 31 luglio alle 2 del mattino fino a domenica 2 agosto alle 2 del mattino quindi ragazzi non c'è bisogno che rimanete in piedi fino alle 2 del mattino per guardare l'evento se non vi interessa ma otterrete comunque la copertura loggando su fortnite e verranno anche proposte una serie di nuove skin sempre reattive con una copertura un outfit molto particolare molto comunque gagliardo direi che potete ovviamente prendere nello shop volevo anche far vedere ragazzi purtroppo non posso farvi ascoltare la musica originale ma il trailer di questa ultima parte del concerto di diplo ed eccolo qua quindi molto molto atteso anche questa parte del concerto ovviamente non perdetelo mi raccomando e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché vi ricordo che anche questa settimana arriveranno tutte le sfide della week numero 7 ce n'è una molto interessante che ci darà ben 80 mila punti esperienza ed è una challenge che ci chiederà di eliminare giocatori per un totale di 50 nemici uccisi quindi ragazzi ci metteremo un po di più a farla a meno che non vi buttate di prepotenza nella modalità risa squadre dove ve li fate in un paio di match mentre per quanto riguarda le altre sfide forse c'è qualcosa di interessante da farvi come vedete la quarta sfida finbols off yam at katty corner quindi al gatto grill ci saranno delle pallette probabilmente di di pelo che cavolo ne so che dovremmo trovare vi farò il video e ci sono invece classiche sfide cercare delle casse di munizioni uccidere gente in un determinato posto e via dicendo quindi ancora un bel po di punti esperienza per livellare con il personaggio e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché vi ricordo anche una cosa che è stata pubblicata ieri pomeriggio nella sezione news di fortnite e parla con tutti quelli che si divertono a creare dei percorsi delle mappe interattive nella modalità creativa creatori quest'ultimo evento della community è qui stiamo cercando i migliori giochi con gioco cooperativo questo include giochi cooperativi come deathland mappe rompicapo pv e sopravvivenza mappe avventura e altro vogliamo anche sentire le vostre storie di collaborazione cooperativa condivideremo alcune delle vostre storie sul canale twitter ecco alcuni esempi di cosa stiamo cercando ad esempio la prima volta che hai collaborato con qualcuno sulla mappa quella volta che un altro creatore ti ha aiutato per un gioco quando creatori di regioni diverse hanno collaborato e se hai collaborato con un influencer per condividere la tua mappa andate nella sezione ragazzi delle news e dei fortnite per inviare il modulo ufficiale quindi magari riuscire ad essere pubblicati nella loro pagina twitter e perché no magari la vostra isola potrebbe andare in evidenza e devo parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono delle novità di piccoli aggiornamenti per quanto riguarda la ancient ship quindi sto parlando ovviamente della navicella spaziale antica che ancora non è riemersa nonostante sia abbassato il livello dell'acqua vi ricordo ragazzi che si parlava di questa navicella addirittura nel precedente capitolo di fortnite dove c'era il visitatore che appunto accennava a questi viaggi con queste navicelle dovreste ritornare ad ascoltare tutto il dialogo ma per chi ha seguito i video news sicuramente sa di che cosa sto parlando e vi ricordo che ci sono tre parti mancanti da non sono nove sono tre le parti mancanti che dovremmo trovare installare anche io credo che prenderemo dei punti esperienza notevoli al termine poi stoppare la navicella tra l'altro le tre parti sono le batterie i thruster che non so cosa siano e gli head shield quindi penso che siano gli scudi in poche parole mi viene in mente anche qua preparerò il video non appena sarà disponibile la missione non è ancora fattibile quindi non vi preoccupate che troverete tutte le soluzioni e vi ricordo intanto che in game proprio vicino a scogliere sulla parete della montagna troviamo uno dei motori mentre invece dietro il grande ristorante di scogliere sott'acqua è presente la navicella che vi ho già fatto vedere e che secondo me riemergerà i primi di agosto con il nuovo abbassamento dell'acqua andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ecco qua l'argomento più interessante arrivano da fonti attendibili che ci potrebbe essere una collaborazione tra l'altro a breve quindi tra poco pochi giorni ovviamente con lady gaga e ariana grande e fortnite adesso ragazzi noi purtroppo non sappiamo i dettagli specifici quindi non sappiamo se sia un concerto non sappiamo se siano delle skin non sappiamo se vogliono fare qualcosa di particolare ma stanno cominciando prepotentemente a girare delle fotografie e molti leakers mondiali ne stanno parlando quindi ovviamente anche noi in italia anche io cerco di tenervi sempre aggiornati l'unica cosa che però è veramente interessante e non può essere lasciata passare è che il la signorina lady gaga da poco ha cominciato a seguire donald mustard donato il dona ragazzi il dona il capocione di ep games perché è lady gaga che ci avrà in mente tutto tranne fortnite deve cominciare a seguire il donato ora io non ora io non però sai no non penso che sia per quello però potrebbe essere qualcosa davvero di veritiero e andiamo avanti invece a parlare anche di un altro argomento molto interessante perché sembra che stia per tornare una delle più belle ltm a parer mio che abbiamo giocato su fortnite l'operazione knockout chi non si ricorda l'operazione knockout vi faccio vedere delle foto relative appunto alla season precedente era quella che si giocava sia in duo sia in squad in poche parole e perché vi dico che stanno per tornare perché sono stati trovati dei file audio davvero molto interessanti che fanno pensare appunto ad un loro ritorno ve li faccio ascoltare in in breve secondi due secondi ce ne sono anche tanti altri sono tutti background musicali ed effetti di gioco questo ci fa pensare appunto che ritornerà l'operazione knockout ma magari con una veste completamente nuova un restyling totale della modalità io spero non la distruggano perché era veramente molto molto interessante e prima ragazzi di salutarvi volevo anche farvi vedere una cosa che per sbaglio ieri epic games si è un po' bruciacchiata ma hanno tolto il tweet subito una nuova copertura reattiva o meglio reattiva ogni volta che l'arma spara la copertura cambia colore quindi è una particolarità una cosa che non abbiamo ancora visto ci sta penso che costerà indicativamente 500 vbucks andremo a vedere non appena la metteranno disponibile nello shop insomma ragazzi io anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticatevi di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao ciao Grazie a tutti.